Durante diverse ore macinate in peso del 2014 posso tranquillamente affermare che in ogni master league che si rispetti non possono mancare determinati tipi di giocatori. Tra i difensori più forti possiamo trovare Dante del Bayern Monaco, magari associato a due fasce veloci come Daniel Alves e Giordi Alba. In centrocampo invece da voi Juventino ripiegato su Marchisio e posizionato Isco dietro le punte.